amici sono in camera e sto per degustare il mio buonissimo porridge se mi dovesse vedere l'anadiona ho finito di vivere proprio fine della mia esistenza perchè devo studiare quindi non perdo tempo sto già qui così eh avete capito e prima però volevo farvi vedere come ho fatto il mio porridge dato che è cambiata la situazione perchè è migliorata ora il mio porridge è perfettamente guarnito grazie all'aiuto della crema proteica al caramello salato vi prego guardate la consistenza ha un profumo pazzesco e io non l'ho mai trovata perchè era sempre sold out invece adesso ragazzi la crema proteica non è più un'edizione limitata ma ci sarà sempre disponibile quindi sono un sacco contenta ne prenderò tipo 500.000 e ha un profumo pazzesco adesso guarnisco il mio porridge però bene di nuovo aggiungiamo ce l'ho qua ora la farò sparire aspettate è dura da far sparire buonasera ora vi presenteremo la storia dei tre moschettieri adesso dobbiamo montare il castello cioè no cioè dobbiamo incominciarlo per racchiamare il protagonista adesso dobbiamo incominciarlo per racchiamare il protagonista grazie all'inizio